Grazie a tutti. Per quanto riguarda la protesta per gli esodati del settore, quindi abbiamo a nostra disposizione soltanto un quotidiano, anzi due in realtà, il tempo e il quotidiano di Latina. Proprio dal tempo, iniziamo a vedere quali erano in mattinata i titoli principali, ovviamente si parla tanto di politica con una campagna elettorale che è agli sgoccioli, una campagna elettorale che a detta dei quotidiani e del web è stata vinta da Beppe Grillo. Questo per quanto riguarda appunto i comizi e la presenza nelle piazze. Tutt'altro affare saranno i risultati alle urne. E' proprio a Beppe Grillo che il tempo, il quotidiano di Roma, dedica la sua apertura. Il comico non fa più ridere, fa paura. Lo tsunami Grillo, Beppe vince la campagna elettorale, cresce nei consensi, spopola in tv. Renzi preoccupato, teme l'assenzionismo e strizza l'occhio agli elettori del centrodestra. La campagna elettorale per le europee volge al termine, ma ha già un vincitore Beppe Grillo. Due giorni fa il premier impegnato nel tour elettorale in tutta Italia ha confessato, se vince Grillo non mi dimetto. Ecco che ha dunque messo nel conto di poter eventualmente perdere, di poter subire una sconfitta che sembrava impossibile appena dieci giorni fa. Grillo ha vinto perché da due settimane emena le danze. La mattina sono tutti ad aspettare che cosa farà e che cosa dirà. Ha imposto i temi della campagna elettorale tutti i giorni e tutti i giorni è stata una rincorsa per tentare di raggiungerlo. In prima pagina sul tempo ritroviamo anche il sindaco di Roma e alcune sue dichiarazioni che come quelle della liberalizzazione delle droghe leggere nei giorni scorsi stanno facendo molto discutere. Questa volta però si tratta dei parchi dell'amore, dei cosiddetti quartieri a luci rosse. Il sindaco di Roma ha detto proprio ieri di essere d'accordo a un'iniziativa del genere. Ha dichiarato non spetta a me quella che è la decisione ultima per questo argomento, ma se dovessero chiedermi un consenso potrei tranquillamente darlo. Mediatrade, l'altro caso degli ultimi giorni, l'ultimo assalto dei PM. La richiesta è di tre anni per Pier Silvio e anche una richiesta per Confalonieri, fedele Confalonieri. Poi i dati segreti dei radicali che riguardano il sovraffollamento delle carceri con il ministro che è stato sbuggiardato riguardo a questo argomento. Ed ancora si torna sulla questione casa nella capitale, occupanti impuniti, 60 indagini per nulla. L'inchiesta del tempo sul business dei senza casa, indagini, sequestri, sgomberi ed esecuzioni immobiliari. I danni, i movimenti per il diritto all'abitare sono nel mirino delle forze dell'ordine dei magistrati. Sono circa 60 a Roma i procedimenti penali e civili a carico delle occupazioni gestite dagli antagonisti che detengono abusivamente oltre 100 immobili. Andando avanti ci spostiamo ora sul web per vedere quali sono le altre notizie e gli aggiornamenti delle ultime ore. In primo piano sul sito dell'ANSA troviamo ancora una volta, e non poteva essere altrimenti la politica, in queste ultime ore di campagna prima delle elezioni europee. Questa volta però si parla degli 80 euro che sono solo in inizio, questa è una dichiarazione da parte di Matteo Renzi, giù le tasse. Questa è la notizia in apertura al momento sul sito dell'ANSA. Il giro di Italia in 80 giorni, si chiama così la copertina con le 10 slides, con cui Matteo Renzi ha illustrato in conferenza stampa l'azione del governo dalla sua nascita, dove ogni riferimento agli 80 euro è puramente voluto. Chi ha pensato che per 80 giorni abbiamo fatto interventi spot deve ricredersi, ha detto Renzi. Attraverso le misure varate dal governo nei primi 80 giorni inizia a emergere la cornice del puzzle. Il disegno complessivo ha spiegato il Presidente del Consiglio. Gli 80 euro di taglio dell'IRPF sono solo in inizio e ci sarà un alleggerimento anche per pensionati. E partite IVA giù le tasse se vogliamo portare sull'Italia. Ha affermato poi il Premier il prossimo passo per combattere la disoccupazione e la rapida approvazione del DDL delega sul lavoro che contiamo di accelerare quanto più possibile. Ho il desiderio di rassicurarvi del fatto che in questi giorni di intensa campagna elettorale non soltanto si è continuato a lavorare in modo molto deciso e determinato ma si sono gettate le basi per un autentico cambio di prospettiva della nostra azione di governo ha detto sempre il Premier. I provvedimenti assunti fino ad ora non sono sufficienti a cambiare verso ma è difficile trovare altri governi che in 80 giorni hanno realizzato risultati così concreti e questo è per noi un elemento di stimolo. Ora che ci siamo messi sulla strada buona dell'edilizia scolastica senza annunciare la riforma della riforma che è contro riforma siamo in condizioni di fare finalmente un grande progetto educativo sulla scuola per valorizzare insegnanti al ruolo dell'educazione ha poi aggiunto Renzi illustrando le cose fatte e i passi futuri del governo. Dopo il decreto varato ieri in Consiglio dei Ministri il prossimo passo sulla cultura è un disegno di legge organico che il governo proporrà e su cui avvierà un dibattito con gli operatori per poi fare una sintesi a vararlo. Così Renzi non c'è Italia possibile senza un grande investimento sulla cultura. Questo è un concetto che aveva più e più volte ribadito lo stesso Renzi anche in passato. Berlusconi, se vince Grillo il rischio è di disordini. Parliamo adesso invece che di Matteo Renzi delle ultime parole di Silvio Berlusconi non posso immaginare cosa succederà si tratta di una presenza inquietante potranno succedere dei disordini inquietanti lo ha affermato proprio l'ex presidente del Consiglio all'Alfonso Signorini Show Grillo non fa più ridere fa e deve fare paura ai regimi autoritari conclude sono nati nelle stesse condizioni economiche dell'Italia di oggi Grillo ha già detto che farà la marcia su Roma ha chiesto la testa del presidente della Repubblica è promesso la cacciata dei parlamentari vuole processare imprenditori politici e giornalisti ha annunciato che vuole distruggere tutto con un sistema governato da delegati del web lo afferma appunto sempre durante la stessa intervista Silvio Berlusconi su Radio Monte Carlo sottolineando può sembrare una macchietta di dittatore ma non è assolutamente così invece fa solo paura queste sono state appunto le parole di Silvio Berlusconi riguardo a Grillo un Grillo che come abbiamo visto dai quotidiani invece è dato come assoluto vincitore per quanto riguarda la battaglia così viene chiamata sul tempo della campagna elettorale è quello che ha raggiunto migliori risultati stando ai comizi di piazza e al richiamo di persone durante i suoi interventi vedremo poi come si evolverà la situazione e noi ci fermiamo però un attimo per il momento soltanto per un po' di pubblicità e torniamo tra poco con le altre notizie grazie grazie